L'Arezzo questa mattina è tornato al lavoro, allenamenti in palestra per chi ha giocato a Livorno, seduta e incentrata sulla tattica per tutti gli altri, sul sintetico del buon conte da Montefeltro. È stata designata nel frattempo la terna di Arezzo Renate. Arbitro dell'incontro sarà Ilario Guida di Salerno. Nella passata stagione il fischietto campano ha diretto di Amaranto nel rocambolesco KO per 3 a 2 in casa della Lupa Roma. Stabilito anche l'orario e la data della partita di Coppa Italia di Lega Pro tra Arezzo e Tutto Cuoio, valida per i sedicesimi di finale. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 9 novembre alle ore 14.30. Anche in questo caso, come accaduto a Prato nel turno precedente, la formula prevede in caso di parità dopo i 90 minuti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. In caso di qualificazione la vincente affronterà il 23 novembre, la vincente di Pontedera ferrà il Pisalò.